Ecco perché Cecilia Rodriguez era assente in studio all'Isola dei Famosi. Cecilia Rodriguez è di nuovo finita al centro del gossip. Da quando il suo compagno, Ignazio Moser, è entrato a far parte del cast di quest'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, la modella argentina è spesso al centro della cronaca rosa. E ogni settimana la più piccola della Rodriguez è sempre presente nello studio di Ilari Blasi per sostenere il suo fidanzato. Eppure, nel corso dell'ultima puntata andata in onda il 7 maggio, molti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza di Cecilia Rodriguez. Ma come mai la modella non era presente tra gli ospiti in studio? Dopo qualche tempo in cui i fan hanno continuato a chiederselo è finalmente spuntata la verità riguardo la sua assenza. Scopriamo insieme cosa è successo. Cecilia Rodriguez assente nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, ecco dove si trovava. L'assenza di Cecilia Rodriguez nel corso dell'ultima puntata andata in onda dell'Isola dei Famosi non è di certo passata inosservata. La modella è infatti una presenza costante nel reality e in molti si sono chiesti quale fosse stato il motivo della sua assenza. Eppure, solo poche ore dopo il mistero sembra sia stato svelato proprio dalla diretta interessata. La Rodriguez ha infatti pubblicato alcune Instagram stories in cui si mostrava in hotel di Carrara. La modella era alle prese con uno shooting insieme ai suoi fratelli per la linea di abbigliamento che hanno recentemente lanciato insieme, innominate. Ma nonostante non abbia potuto essere fisicamente presente in puntata, la modella non ha mancato l'occasione per mostrare la sua vicinanza al suo fidanzato. Sempre tra le sue Instagram stories sono apparsi infatti alcuni scatti in cui l'influencer era sintonizzata su Canale 5 per vedere la nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nonostante la lontananza, le cose continuano ad andare a gonfie vele. I due sono sempre più innamorati e, anche in questa nuova esperienza, la Rodriguez sostiene ogni giorno il suo compagno. E chissà che la sua vicinanza non possa portargli fortuna per la vittoria finale. Grazie a tutti.